Tom John Collins, i due fratelli scrivono un'altra pagina della storia. Nel 1800 i due fratelli creano lo stesso cocktail ma con due piccole differenze. John con un London Dry Gin e Tom con un Old Tom Gin ma con un finale diverso che vediamo ora nella preparazione. 20 ml di sciroppo di zucchero. 30 ml di succo di limone fresco. Noi preferiamo prepararlo come John con un London Dry Gin. Non ce n'è di meglio se non Balcanico Gin. 50 ml di Balcanico Gin. Prima di versare i ultimi due ingredienti raffreddiamo e completiamo con la soda. Come vi ho detto il finale dei due cocktail dei due fratelli era diverso. John lo beveva così semplicemente con la decorazione e Tom ci aggiungeva anche l'angostura come noi ora lo andiamo a completare. E andiamo a decorare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi lo preferite con l'angostura oppure senza. Balcanico Gin vi saluta e salute.